magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale è il giorno della semifinale di andata dell'euro derby tra milan e inter quindi questo video andremo ad analizzare sia questa partita e ovviamente anche tutte le partite del trentacinquesimo turno di serie a come sempre vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale vado a fare una precisazione perché tanti abbonati ancora non hanno capito le call che stiamo facendo visto che dal prossimo anno anzi da giugno non ci saranno più gli abbonamenti fuori classe e campione le call sono personali quindi faremo una call di una mezz'oretta e in cui chiacchiereremo parleremo e capiremo un po cosa serve a voi abbonati spero dopo questo sia stato abbastanza chiaro allora vi dicevo questa sarà una settimana importantissima perché con l'europa in cui ancora ci vede impegnate con tante tante squadre sarà fondamentale cercare di sbagliare il meno possibile nello schierare la formazione domani vi ricordo che ci sono le due top 11 e anche domani faremo una live vediamo perché forse vi porto una chicca già domani però ancora non ho certezza comunque la live ci sarà sui fantaconsigli poi quella di venerdì vediamo perché devo vedere questo matrimonio come riesco a organizzarmi per fare al meglio il mio lavoro però andiamo di fantaconsigli si parte con lazio lecce una partita diciamo che è importante per entrambe le compagini in quanto la lazio viene da una sconfitta anche brutta direi contro il milan perché non fare un tiro in porta non è da lazio e lecce viene anche da una brutta sconfitta perché nonostante non abbia fatto malissimo però ha perso col verona in casa e poteva essere la partita che non dico dava la matematica certezza di salvezza però se andavi a 34 quindi a un più 7 dalla terza ultima era era quasi fatta allora la lazio è chiamata a un pronto riscatto prove dell'importa lo metterei perché lecce non ha sto grande attacco in difesa mi piacciono più i due centrali qui che i due diciamo terzini nel centrocappo mi sta piacendo marcos antonio era un giocatore che tecnicamente si vede che è bravo poi col milan fa perde quella palla sanguinosa un po colpa sua ma anche se vedi che è attaccato non gli dai magari quella palla ecco sicuramente delle colpe ce le ha però secondo me rispetto a cataldi è un'altra cosa dei quattro centrocampisti contro il lecce si mettono tutti sicuramente sta facendo stanno facendo meglio zaccagni e felipe anderson rispetto a milinkovic savage dal sergente sicuramente ci si aspettava tutti di più purtroppo ha fatto una partenza ottima quando si è arrivato intorno alla settima ottava è stato a fare diversi bonus assist e poi è quasi scomparso il sergente e poi è chiamato anche a un pronto riscatto ciro immobile perché i possessori di ciro ormai non ce la fanno più dopo aver speso tanto tanto budget per acquistarlo nessuno si poteva aspettare un'annata così deficitaria lato lecce il portiere non andrei a metterlo nonostante falcone sia un portiere che ammiro un buon portiere un buon prospetto anche contro il verona ha fatto bene un bel 6 e mezzo l'ha portato però non lo rischiere contro la lazio dietro baschirotto non è quello di che ci ha fatto vedere per gran parte del campionato ultimamente lo vedo un po più in difficoltà dipende dai giocatori che abbiamo ma non è detto che bisogna schierarlo nel centrocampo auden è quel giocatore che secondo me non è il suo anno e potrebbe fare molto di più è uno che ha un bel piedino infatti come vedete tira tanti piazzati sono messi rimarrà a lecce con lecce in serie a il prossimo anno magari potremmo vedere un buon giocatore e sempre con i dovuti se e poi strefezza si mette anche se non è una partita eccezionale per lui perché anche contro il verona non ha toccato tanti palloni l'ho visto un po avulso dal gioco e sui attaccanti si sei di francesco non mi fanno impazzire passiamo poi a salernitana atalanta entrambe vengono da una sconfitta la salernitana ha perso meritatamente contro l'empoli nonostante il risultato di 2 a 1 sia un po bugiardo perché l'empoli ha meritato ampiamente la vittoria mentre l'atalanta ha cercato di fare la sua partita si è fermata ai pali e la juve ha fatto il suo solito gioco ed è riuscita ad avere la meglio di un'atalanta magari non al 100 per cento la dosa allernitana o ciò importa è sempre schierabile perché fa una montagna di parate soprattutto se avete il modificatore di difesa magari è un portiere che ti parte da sei e mezzo quindi anche dovesse prenderti un gol due gol con l'atalanta magari ti consente di prendere un più uno un più tre di modificatore ed è tanta roba difesa i due esterni si possono mettere soprattutto mazzocchi ma anche bradaric che a me sta piacendo veramente tanto ed è mancato sulla settimana alla salernitana nel centrocampo qui faccio un po' di fatica a andare a mettere anche lo stesso castanoss che va a giocare sulla tre quarti forse vigliena è più intrigante poi alla fine magari è difficile anche avere castanoss però è uno sempre che ti gioca davanti quindi un bonus lo può sempre portare e tra botai media ovviamente preferisco di a perché nonostante il turno di stop contro l'epoli in cui non va bonus sempre un attaccante pericolosissimo botai mi devo dire a me non sta dispiacendo mi aspettavo magari un bonus da parte sua empoli che poi non è arrivato e lato atalanta secondo me il portiere il portiere è schierabile quindi sportiello si potrebbe andare anche a mettere anche se la salernitana è una squadra molto pericolosa in casa soprattutto da quando è arrivato paolo sosa stanno facendo veramente bene in difesa sicuramente zappacosta non è riuscito a contenere bene il junior infatti se ne è uscito con un 5 nonostante un legno però secondo me è sempre sempre schierabile assolutamente da mettere dietro i tre centrali io direi forse che quello maggiormente schierabile è toloi ma anche scalvini per un per un buon voto è sempre un anche lui pericoloso sono due che potrebbero fare di più in zona gol secondo me nel centro campo quello che mi piace settimana è copmainers potrebbe essere una giornata in cui magari ci porta un bel bonus quindi lui proverei a metterlo su pasalic si inizia un po a perdere a perdere le speranze perché magari ti fa il gol in una partita in cui tu non lo metti perché è una partita difficile poi alla partita buona e fallisce miseramente duvan zapata ci si aspettano i gol da lui forse in trasferta è meglio che in casa io lo metterò questa settimana quindi proverei a dar fiducia a duvan passiamo a spezia milan sicuramente una partita che per i tifosi del milan ci sono c'è qualche ricordo un po così all'andata finì 2 a 1 non so se ricordate col gol finale di Giroud in cui viene anche espulso dopo l'esultanza è una partita fondamentale per entrambe le compagini sicuramente lo spezia deve far meglio perché deve cercare di portare dei punti a casa di andare a vedere le ultime tre giornate 0 a 2 col Monza 3 a 2 con l'Atalanta e 2 a 0 con la Cremonese risultati anche diciamo netti anche se con la Cremonese lo spezia non mi è dispiaciuto in toto poi ovvio vedi un 2 a 0 dici mamma mi hanno devastati e invece lo spezia la partita l'ha fatta un grande carne secchi qualche imprecisione sottoporta lo spezia doveva far di più in zona gol Dragoschi in porta non andrei a schierarlo in difesa quello che si può sempre mettere che dico sempre è Simone Bastoni poi degli altri tre difficile andare a mettere qualcuno nel centro campo il giocatore che si può andare a schierare anche se è una partita difficile è Giasi che già ha punito il Milan in passato quindi potrebbe essere una scommessa che dici ci sta sta settimana e poi in balanzola A è quello che se lo hai lo metti indipendentemente contro chi gioca e poi c'è il Milan c'è il Milan che avrà la partita di Champions questa sera contro l'Inter poi quando faremo la canzoncina vi dirò qualche minuto quello che penso di questa partita qui la cosa più importante da andare a vedere la probabile formazione del Milan perché presumo che uno spezia Milan anche se è una partita fondamentale per la Champions del prossimo anno il Milan farà ampio turnover perché giocherà oggi mercoledì poi gioca sabato e poi subito di nuovo in campo martedì quindi avrà tre giorni di tempo per recuperare e quindi io prevedo veramente tanto turnover quindi qui vado a dire magari dietro metto il portiere Mignon perché sicuramente potrebbe giocare lui non credo che faccia turnover lì Teo Hernandez ce lo metto anche se poi magari non giocasse però lo metto tanto alla fine se ho cinque cambi frega nulla mi entra un altro sugli altri probabilmente non andrei a rischiarmelo a meno che magari non ho un giocatore un Kalulu che magari stasera giocano Tomori e Kier allora dico metto Kalulu perché so che dovrebbe giocare nel centro campo anche qui probabilmente vedete Portakrunic, Vrancix andiamo a vedere chi gioca magari un Messias se dovesse partire dal primo potrebbe essere interessante da andare a schierare quindi qui perdo poco tempo perché la cosa più importante, la cosa fondamentale è capire chi giocherà nel Milan poi passiamo a Inter Sassuolo come dicevamo anche l'Inter stasera sarà impegnata col Milan poi sabato sabato sera sarà di scena a Milano in Inter Sassuolo e poi subito torna martedì in campo e quindi sarà una partita per me anche questa molto difficile perché il Sassuolo è una squadra che spesso ha dato fastidio alle milanesi quindi non è una partita semplicissima anche se sulla carta magari uno dice eh l'Inter deve andare in Champions il Sassuolo non gli servono punti però invece è una partita importante anche per l'Inter anche qui dobbiamo andare a vedere soprattutto chi giocherà probabilmente in porta potrebbe starci Andanovic poi in difesa ci potrebbe essere qualche altro cambio potrebbe tornare Gosens eh titolare ecco tutti queste tutte queste cose andiamo a controllarle magari fino all'ultimi gli ultimi minuti di venerdì perché sicuramente eh quando parlerà in Zaghi eh ci saranno delle novità importanti per andare a schierare eh nel centro campo anche qui andiamo a vedere perché se magari un Mkhitaryan parte sicuro dal primo si può schierare o un Cialanolu eh davanti sicuramente giocheranno chi non partirà a titolare eh in Champions io stasera mi aspetto Dzeko e Lautaro e quindi probabilmente potrebbero essere Lukaku Correa i prescelti per Inter Sassuolo e con un Lukaku che onestamente è in una forma eh importante una forma eh sicuramente migliore rispetto a quella che ha avuto in passato perché ora si vede che il luogo sta bene eh si vede come ehm aiuta la squadra in tutte le situazioni fa gol è un Lukaku direi ritrovato lato Sassuolo qui passo direttamente al centro campo perché dietro non andremo mai a schierare nessuno eh ci può stare rischiarsi di un frattesi anche se eh secondo me in questo periodo è anche un po' sfigato perché qualche gol l'avrebbe potuto portare sta spaccando traverse sta facendo prestazioni importanti incursioni ma non riesce a buttarla dentro eh ci sono quei periodi dell'anno in cui non ti gira bene soprattutto per un centrocampista che non ha una montagna di palle gol a partita ci possono stare tanti turni magari a bocca asciutta anche se devo dire che frattesi ci aveva abituato benissimo perché i gol li ha fatti davanti sicuramente quello da mettere è Mimmo Berardi eh sugli altri non so se l'auriente sarà titolare dopo la panchina dell'ultima giornata eh ma gli altri diciamo l'auriente si può schierare ma non è detto che eh lo dovete mettere in base un po' sempre ai giocatori che si hanno quindi quello da mettere su la mente è Mimmo anche se gioca contro l'Inter e poi passiamo a Verona Torino prima dalla canzoncina mi raccomando di lasciare un like e qui la partita è fondamentale per il Verona io eh malpensante vi dico non dico che sono convinto che vinca il Verona però ci potrebbe stare una vittoria del Verona anche se eh diciamo che il Verona viene da una prestazione buona nei primi dieci minuti un quarto d'ora eh contro il Lecce eh poi non ha fatto granché qualche azione fino al gran gol di Ingonge eh quindi qui io vedo Verona nettamente favorito poi vediamo un po' come si svilupperà la partita eh Montipo in porta lo metterei il Torre è una squadra che non fa eh ma quasi mai più di un gol a partita quindi io portiere come Montipo che l'ho visto anche nelle ultime abbastanza in forma proverei a metterlo eh dietro sicuramente quello da mettere Faraoni giocatore che eh manca un po' il bonus potrebbe essere una partita da assist o gol per lui e dietro c'è un Magnani ragazzi che ci sta provando spesso quindi occhio magari ora se non fate un Fantadodici o magari un Mantra Magnani non ce l'ha nessuno però occhio perché sono un paio di partite che vedo che calcia anche bene eh in diverse situazioni eh magari un gol assurdo di Magnani potrebbe svoltarci un Mantra ecco eh centrocampo ho rivisto sprazzi del vecchio Darko Lazzovic giocatore importantissimo per questo Verona eh poi alla lunga ha un po' pagato perché eh diciamo ancora non è al massimo della condizione però eh i primi minuti quando ha gamba ha fatto benissimo e mi aspetto diciamo un miglioramento contro il Toro e poi c'è un giocatore da andare a mettere al cento per cento questa settimana il giocatore da schierare assolutamente al fantacalcio Verdi 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 perché ex in questa giornata ci sta dimostrando che lui è un giocatore che i bonus li può portare contro chiunque e da quando l'abbiamo portato alla fine contro il Bologna doppietta poi un gol eh poi un attimo si è fermato eh c'è una partita importante contro l'Inter mentre il Lecce potrebbe tornare al bonus contro il Toro ehm sugli altri due di Juric onestamente sono giocatori difficili da andare a schierare lato Toro Milikovic Savic settimana ha fatto bene eh però in questa partita in cui vedo onettamente favorito il Verona magari proverei a andare su altri esempio Montipò eh difesa qui secondo me se cerchiamo un bonus potremmo mettere Singò che sulla fascia torna dopo la squalifica e quindi è un giocatore schierabile eh poi ci sono sempre quei due difensori Rodriguez e Buongiorno che il loro lo fanno magari li portano il sei e mezzo eh Buongiorno quando eh l'avevamo consigliato ha portato anche il gol quindi sono due giocatori che in base un po' a come stiamo messi ci potrebbero pensare di mettere eh centrocampo sicuramente i due sicuri di andare a schierare sono Miranciuk e Blasic Blasic ha portato un assist un po' un assist forzato perché lì è Sanabria che fa la gran giocata eh però alla fine è un bel sette e mezzo e quindi io andrei a metterlo e su Miranciuk secondo me è stato uno dei migliori in campo perché eh aveva fatto gol calciava in porta apriva le azioni cambiava cambiava lato di gioco eh e uno Miranciuk è un giocatore ragazzi è un giocatore forte sa calciare in porta e quindi se gioca quando gioca Miranciuk va schierato e davanti il Tonni Sanabria quindi giocatore che eh mi sta eh ripagando eh di quello che ho speso all'asta perché a un certo punto ho detto io ma questo quando inizi a segnare poi mi sono ricordato che spesso lui da gennaio in poi fa benissimo e quindi l'ho tenuto in tutte le squadre dove l'avevo preso e poi ho raccolto i frutti ecco a volte anzi dico spesso ragazzi la pazienza fatta calcio è importante poi se hai beccato un cdk la pazienza l'avrai anche persa bene ragazzi wa ui uè la fortuna viene a me wa ui la fortuna viene lì dai ragazzi su con i like e vi vado a commentare velocemente la partita di stasera parto dall'Inter delle due la squadra che sicuramente non sbaglierà l'approccio al match è l'Inter la vedo concentrata giocano tutti per far vedere a Inzaghi che devono essere titolari si aiutano vedo un Inter che avrei voluto vedere anche a inizio campionato l'Inter era quella che aveva maggiori possibilità di portare a casa questo scudetto buon per il Napoli ovviamente per me del Sud voglio dire sono contentissimo che il Napoli abbia vinto lo scudetto però magari un campionato in cui sia anche un po' tirato sarebbe stato anche più bello e l'Inter ha tutte le carte in regola per far bene probabilmente i zaghi quando si lamenta anche un minimo di ragione ce l'ha nel momento in cui dice non ha avuto mai i quattro attaccanti non ha potuto alternare quindi c'era chi arrivato a un certo punto che tirava troppo la carretta ci sta però gli infortuni succedono a tutti succedono anche al Napoli che non ha magari un ricambio all'altezza di Osimène quindi quelle sono un po' di scuse che lasciano il tempo che trovano però sicuramente ora l'Inter è in formissima contro la Roma ha vinto meritando giocando anche un buon calcio che alla fine che ne dica Allegri se giochi male non è sempre facile puoi vincere mentre quando giochi bene ok magari ci sta qualche partita che ti gira male non riesci a portare i tre punti a casa però sei nettamente favorito se fai anche un buon gioco quindi io personalmente vedo favorita l'Inter poi è una partita di Champions il Milan potrà mettere in campo anche la sua esperienza perché il Milan il Champions ha spesso fatto bene in Europa ed è una squadra che se vogliamo è un po' come la pazza Inter cioè il Milan può vincere 4-0 a Napoli può vincere 2-0 con la Lazio e poi pareggiare con la Cremonese o perdere contro l'ultima della classe e questo sicuramente è anche un po' l'aspetto mentale cioè se il Milan la approccia bene questa partita potremmo veramente divertirci non so se ci sarà Leao sicuramente potrebbe essere una grande perdita sia per il Milan ma anche per noi spettatori che guardiamo la partita perché Leao potrebbe essere uno di quelli che spacca la partita quello che ti trascina la vittoria e la perdita di Leao sicuramente sarebbe una perdita importante per il Milan il Milan vi ripeto secondo me se la approccia bene può giocarsela anche contro l'Inter anche se le caratteristiche degli attaccanti dell'Inter potrebbero impensierire non poco la difesa del Milan tanto secondo me dipenderà anche dal centrocampo perché si affrontano due centrocampi abbastanza forti l'Inter ne ha quattro addirittura che potrebbero giocare in qualsiasi squadra di Serie A ma anche il Milan ha un ben essere che spesso è stato sottovalutato ma per chi mi segue io l'avevo detto anche a inizio anno sia come M al mantra ma è un giocatore che lo prendevi alla fine ha un credito e il suo apporto non mancava mai in termini di voti qualche gol poi ora che gioca addirittura anche sulla tre quarti è tanta roba per il Fanta e quindi riassumendo secondo me io vedo leggermente favorita l'Inter ma poi queste partite vanno giocate e anche un po' le ultime le ultime Inter Milan l'Inter ha sempre fatto qualcosina in più ha sempre dimostrato una rosa magari più completa del Milan però come vi dicevo le partite vanno giocate perché anche magari in Milan-Napoli davamo non dico per scontato però nettamente favorito il Napoli comunque favorito il Napoli e poi il Milan è riuscito a portarlo a casa quindi staremo a vedere staremo a vedere stasera come andrà ritorniamo sui fantaconsigli ma lasciate i like non fate i monelli perché i like portano bene e portano poi una vittoria al Fanta che tanto bisogno ne abbiamo stasettimana passiamo a Fiorentina Udinese sicuramente una partita sulla carta in cui vedo favorita la Fiorentina anche loro però ovviamente giocheranno in Europa quindi facciamo molta attenzione alle probabili formazioni quindi a tante cose perché è importante magari schierare chi potrebbe partire dal primo un portaterracciano secondo me è un portiere che si può andare a schierare non sicuro Clicit però è un portiere che viene anche da un rigore parato a Osimen quindi potrebbe anche essere abbastanza gasato in difesa i due esterni io li metterei sempre quindi Dodò e Biraghi stanno in forma giocano quindi si possono assolutamente mettere occhio anche a Milenkovic magari per un colpo di testa nel centrocampo altro giocatore non dico da mettere assolutamente però ve lo metto così in modo tale che guardate anche solo il gesto e vi fermate per quelli che fanno gli schipponi quelli che saltano un po' il video occhio a Anthony in barack occhio perché da ex potrebbe fare veramente bene poi bisognerà vedere se gioca se magari gioca sulla tre quarti se fa la mezzala però barack contro l'Udinese può purgare quindi mi raccomando se avete un ballottaggio tra due giocatori mettiamo barack poi un altro interessante potrebbe essere i conè però anche qui guardiamo magari le formazioni di domani in Europa così ci regoliamo chi potrebbe partire dal primo in campionato poi davanti potrebbe esserci nuovamente Cabral perché se è recuperato già per l'Europa potrebbe fare entrambe le partite quindi della Fiorentina ci sono tanti che potrebbero essere schierati anche un Mandragora occhio magari al mantra se avete una bella M come Mandragora anche lui ex potrebbe mollare qualche golletto lato Udinese il portiere direi di no in difesa metterei i due esterni sia Autogì da una parte che Bosele dall'altra questa settimana è stata un po' critica perché tanti difensori non hanno giocato Autogì è entrato però non ha preso voto quindi in tanti hanno hanno giocato hanno giocato in dieci quindi facciamo molta attenzione quando schieriamo questa settimana dopo le coppe mi è piaciuto anche un sacco e Bosele non solo l'assist tanta forza fisica sembra un armadietto a quattro ante quindi bel giocatorino peccato secondo me che arrivando Ezziboi ha tolto il posto io ero convinto che se avesse giocato questo poteva fare veramente bene centrocampo assolutamente Lovric si mette perché è un giocatore che fa gol che fa assist quindi è uno che si può tentare così come Pereira e direi anche Samard ci sono giocatori che se non si hanno centrocampi spettacolari vanno messi poi davanti se c'è Beto si ci può pensare Néstorovski sfido ad avere Néstorovski al pantacalcio passiamo a Monza Napoli questa è una partita importante per niente nel senso che il Monza si sta giocando tutte le partite su tutti i campi quindi sono convinto che proverà a mettere i bastoni tra i ruoli dal Napoli anche se il Napoli ormai è campione d'Italia quindi nella partita potrebbe anche fregargliene poco qui la cosa più interessante è capire il Napoli come si metterà in campo perché settimana scorsa ha riposato Cavaraschelia poi è entrato quindi ci potrebbe essere un po' di alternanza però io sentendo anche le parole di Spallettone mi sono fatto questa idea non so se anche voi la pensate così secondo me Spalletti non farà chissà quanto turnover nel senso che lui ha parlato che giocheranno alcuni giocatori che hanno giocato meno però sono convinto la mia convinzione è che questi giocatori potrebbero entrare più che partire dal primo poi vediamo le ultime due potrebbe anche succedere poi la qualunque però ancora secondo me Josimeni che giocheranno sicuramente quindi qui sul turnover sono meno convinto allora lato Monza in difesa io Carlos Augusto se ce l'ho lo metto col toro c'è andato vicino poteva far meglio su quella conclusione è stato anche bravo Milinkovic Savic occhia Izzo ha giocato quindi probabilmente per palladino è pronto per giocare nonostante tutto quello che è successo magari da giocatori di di Napoli potrebbe anche fare un golletto visto che non darebbe un dispiacere al Napoli perché già quello che doveva fare l'ha fatto nel centrocampo Ciurria dove gioca gioca si mette anche se contro il Napoli poi anche qui se proprio abbiamo un centrocampo altrimenti se devo mettere un giocatore che non mi porta mai un bonus preferisco Ciurria anche di una partita difficile sugli altri di centrocampo faccio più fatica Caprari è tornato al bonus col suo gol mi ha permesso di pareggiare una bella sfida al Mantra anzi vi lascio qua sopra il video di ieri in cui analizzo le tre partite che hanno giocato lunedì e in più vi faccio vedere tutte le classifiche davanti quindi Caprari si può schierare un po' meno Dani Moda la partita non è semplice lato Napoli gollino in porta ha fatto bene contro la sua ex squadra potrebbe essere riconfermato quindi potreste andare a schierarlo in difesa quello assolutamente da mettere Di Lorenzo Di Lorenzo lo definirei io Robocop perché Spalletti non rinuncia a lui neanche dopo aver vinto lo scudetto aveva fatto nuovamente altre due partite Giovanni Di Lorenzo è il capitano e gioca quindi Robocop soprannominato giocherà e può portare un bonus perché a tempi di inserimento è uno che sempre va vicino al gol poi anche di quelli dietro Kim si schiera soprattutto per il mod Olivera può essere un bonus ignorante anzi ignorante ma neanche tanto perché io ci credo in lui infatti l'ho preso in tanti fanto centrocampo Kvaraschelia secondo me giocherà e quindi lo metto e poi sul resto io inizierei a mettere Elmas perché dovrebbe essere titolare anche se lui spesso ha fatto meglio da subentrante perché i gol li ha fatti quest'anno anche se non partiva quasi mai titolare quindi lo metterei poi è ovvio che Azieliski lo prova questi giocatori qui e Chiaosyman che ve lo dico a fare va messo e poi passiamo a Bologna Roma anche qui parliamo di una squadra che sarà impegnata in Europa quindi bisognerà andare a vedere chi cavolo gioca lato Bologna Bologna viene da una prestazione un po' così contessa a solo però il suo punticino a casa l'ha portato Scoruspi importa portiere che alla fine il suo lo sta facendo però forse Andrei su un altro portiere anche se la Roma non credo che vada a Bologna e faccia quattro gole difesa Cambiaso ci sta provando a fare qualche gol però la colpa la colpa possiamo dire così un po' di colpe sul gol di Berardi ce l'ha anche se fa un gran gol gli altri la difesa assolutamente Andrei mirerei su altri Lidi centrocampo settimana scorsa abbiamo beccato il gol di Nico Dominguez e vado a fare i complimenti a Stefano Loretti che l'ha schierato e ha vinto il Fanta grande grande Stefano e ha detto ho schierato Dominguez perché l'ho visto che l'ha consigliata e l'ha messa anche nella top 11 scommessa io posso anche consigliare magari alcuni giocatori e prenderci ma poi dovete avere anche gli attributi voi per schierarli perché schierarono Nico Dominguez col Sassuolo ora non so il centrocampo che avesse Stefano però l'hai messo te sei tu che gli hai dato fiducia quindi i complimenti vanno assolutamente a te qui che poi tra parentesi per me Nico Dominguez è un giocatore di alta qualità che potrebbe giocare più avanzato e portare anche tanti bonus a volte ragazzi nel video di fatta consigli già vi lancio messaggi per un futuro magari prossimo in base un po' a chi ci arriva a chi sarà allenatore e dal posto che occuperanno i giocatori sicuramente Orsolini se ce l'ho lo metterò sempre perché quest'anno è un'annata abbastanza abbastanza positivissima in cui Orsolini è quel giocatore che nel momento in cui fa male un anno fa male due anni e poi te lo lasciano all'asta a un prezzo stracciato tu lo devi prendere assolutamente perché il potenziale ce l'ha e anche se ti flopasse non te ne frega nulla perché dici l'ho pagato poco però mi sono preso un rischio bassissimo dal potenziale altissimo Ferguson è un giocatore che non riesce a portare i bonus però l'ho visto meglio potrebbe scapparci un bonus da parte sua su Barro bisognerà vedere chi gioca non è un giocatore che mi sta facendo impazzire ho visto meglio Arnautovic quando è entrato non è affatto bene lato Roma è qui occhio occhio al turnover Rui Patese in porta potrebbe essere schierabile dietro faccio fatica a vedere turnover perché già senza Smalling questi perdono mezza difesa quindi non so chi sarebbero le alternative ecco perché Kumbulla è Kumbulla però è anche rotto quindi non hanno penso grandi alternative dei difensori mi piacerebbe schierare Spinazzola però anche qui facciamo attenzione al turnover perché potrebbe non essere titolare assaltato anche la scorsa è partito fuori quindi andiamo un po' a vedere chi gioca nel centrocampo Pellegrini lo vedo sempre nelle ultime lo vedo bene anche quando non segna come contro l'Inter però qualche tiro pericoloso qualche azione la sta facendo quindi anche lui è un giocatore da mettere giocando lì magari sulla tre quarti può fare bene poi davanti andiamo a vedere chi gioca perché se Di Bala gioca domani faccio fatica a vederlo in un momento di tornare contro il Bologna dopo poco dopo tutti questi problemi quindi qui ovviamente magari Di Bala si mette uguale l'importante è essere ben coperti in panchina perché bisogna sempre giocare in undici su Ebram è un giocatore schierabile ma ci ho perso un po' le speranze su di lui passiamo a Juventus Cremonese ma alziamo i like ragazzi mi raccomando Juventus Cremonese partita per la Juve importante ma anche per la Cremonese perché con quei 24 punti è ancora in lotta per cercare di rimanere in Serie A è ovvio che dovrebbe andare a Torino e vincere non è facile il portiere potrebbe giocare per in come messo qui in grafica e si va a schierare poi se prende gol anche con la Cremonese pazienza in difesa che qui vediamo dopo l'Europa chi giocherà però ho visto un Danilo sicuramente ripresa dopo due prestazioni incolori in cui ha procurato anche qualche rigore con l'Atalanta l'ho visto meglio infatti ha un po' di stato scalpore il suo 6 perché minimo era da 6 e mezzo anzi a lui gli danno 6 e mezzo anche quando perdono spesso gli davano quel mezzo voto in più con l'Atalanta gli hanno dato forse uno in meno e occhio anche a Bremer perché sono quei giocatori che sono forti di testo e possono staccare e portare un golletto centrocampo qui sempre lo stesso discorso però magari un costo se ce lo metto indipendentemente da quanto mi possa giocare anche lo stesso Adrian Rabiot su chiesa ve l'avevo detto in entrambi i fantaconsigli sia i fantaconsigli normali che quelli in pillole e questa settimana non ci saranno perché sto pieno sto stracolmo di impegni però secondo me è una partita che se non giocasse stasera titolare quindi magari per 90 minuti potrebbe essere titolare con la camonese e fare molto molto bene è tornato Lucian Blauvi lo possiamo dire sono molto contento del suo gol soprattutto per quello che gli hanno riservato i tifosi della Dea quindi sono contentissimo che sia ritornato al bonus e poi il lato cremonese questa è una partita sicuramente difficilissima andare a fare un'analisi non è semplice chi poter mettere pochi giocatori ragazzi Valeri non lo vedo più quello che ha fatto per gran parte di campionato nelle ultime lo vedo un po' in difficoltà rispetto a prima però è pur sempre un gran bel giocatore secondo me lui avrebbe potuto portare molti più bonus di quelli che ha portato ovviamente ragazzi un po' la squadra in cui giochi ti condiziona ecco se magari fosse stato all'inizio con Ballardini in cui fanno un gioco anzi più che un gioco portano più punti a casa perché con Ballardini i punti li fanno poi magari davanti si potrebbe rischiare un Ciofani se non abbiamo grandi alternative però non è facile ragazzi vi invito a lasciare gli ultimi like e passiamo a Sampdoria e Empoli anche qui andrei abbastanza rapidamente lato Sampdoria perché la Samp ormai come sapete e mi dispiace anche è retrocessa una squadra che non avrebbe meritato questa sorte perché purtroppo i problemi societari poi si si ripercuotono anche sulla squadra una squadra così gloriosa mi dispiace che il prossimo anno non la vedremo in Serie A però magari spero che il prossimo anno il Serie B possa far bene perché magari con paracadute vai a prenderti un bel po' di soldini sistemi qualcosa a livello societario e magari puoi ripartire puoi ripartire meglio per ritornare in Serie A bigiocatori qui dico i soliti Augiello si può schierare Zanoli ha fatto un'altra buona prestazione peccato che non sia cinico sottoporta se no questo era un altro grandissimo talento che avevamo portato in quel di febbraio ad andare a comprare e Gabbiadini Gabbiadini mi è piaciuto contro l'Udinese sto un po' sfigato palo qualche buona parata si può mettere lato Empoli bigario in porta si può schierare dietro e Buei è on fire due assist ce l'ha fatto quasi un gol ha preso un legno mi sta piacendo tanto Parisi ci è andato vicino al gol con la Sardinitana l'ho visto un po' di ripresa perché le ultime aveva un po' faticato anche lui lo metterei Luperto ultimamente sta stupendo perché il suo semezzo sta arrivando sempre quindi magari in un mantra in cui è un dc Luperto col suo votino è schierabile centrocampo qui i due giocatori che si possono devono andare a mettere sono Marin che sta facendo molto bene mi sta piacendo veramente un sacco anche lui mantra M bella in questo momento al classic si fa un po' più fatica perché magari se si hanno giocatori forti non si mette Baldanzi per me sta facendo le buone prestazioni gli manca il gol gli manca il bonus potrebbe essere arrivato il suo momento sicuramente è arrivato il momento di Caputo che contro di me si è ricordato di segnare sulla linea e questa è una partita da Caputo mi duole il cuore dirlo perché ancora c'è il ritorno contro Samuele che mi farà così e sono convinto che perderò perché ha Osimena perché ha Caputo e quindi non ci posso far nulla però poi sono contento quantomeno su Cambiaghi perché sono contento perché tanti abbonati lo hanno preso e ora stanno raccogliendo i frutti perché a un certo punto ovviamente anche chi mi segue anche chi crede in me avrà pensato questo è uscito un flop come può sempre accadere perché alla fine non è che faccio un nome ne porto magari 12 11 talenti più altri giocatori menzionati in altri video però su Cambiaghi è stato l'unico giocatore portato come Shorts quest'estate e l'avevo definito il miglior talento che diciamo un'ortamento low cost comunque arrivato dalla serie B ho visto come dico sempre mi guardo tutti gli highlights della serie B dell'anno passato di tutte le squadre che salgono in serie A quando ho visto questo giocatore ma come va questo ad essere in serie B era quella la mia domanda e sta dimostrando che è un giocatore forte peccato peccato veramente che si sia infortunato che abbia avuto quei problemi perché altrimenti potevamo veramente essere qui a parlare di uno che arrivava in doppia cifra e essere ancora di più un crack per il fantagalcio va bene ragazzi io vi ringrazio per essere stati con me ci vediamo domani con le due top 11 ci vediamo domani in live sperando anche di portarvi una chicca domani ma vi darò contezza più tardi e nulla poi venerdì proverò a fare le due live ma non do certezza con questo è veramente tutto ciao ragazzi